ciao benvenuto in questo video oggi ti parlo dei guandi dainese carbon 4 in versione shorts e in versione cioè questi corti vedi sono guandi per la pista però nessuno ci vieta di utilizzarli in strada hanno queste protezioni guarda qua che protezione c'è qua e qua vicino al mignolo e questa qua vedi quindi hanno una peso fatti in pelle pelle di pecore pelle di capra far ride sono ovviamente hanno le nocche in carbonio ma sono guandi al listino stando 180 euro ovviamente ti vengono venduti a 150 140 ora ci sono i saldi il black friday questa è una taglia l quindi diciamo che questo è un guando potrebbe pure essere m però diciamo lo prendiamo in maniera da non non deve deve aderire bene non deve andare largo no diciamo che si guandi forse m sarebbero stretti nel caso mio sono già confortevoli molto conforte e ci hanno un'elevata protezione hanno il polsino regolabile gli inserti elasticizzati le dita precurvate quindi sono già comodi per usare i comandi il palmo in belle c'è 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 c' forazione sul lato interno del dito, cioè hanno dei fori, non so se si vede, ci hanno dei fori per una leggera reazione dei buchini, ah ecco qua si vede, ci hanno dei inserti in fibra di carbonio sulle nocche, un sistema sul mignolo, distanti distorsione, che dire più, quindi diciamo che ragazzi uno può pure spendere di meno, in bike io comprai però erano scomodissimi da indossare, oppure io ho quelli long, questi sono corti, shorts, io uso quelli long, questi mi sono in prova, ce li ho, quelli lunghi sono più scomodi, però sono più sicuri, nel senso che hanno un doppio attacco, dicevo, ora io c'ho una mano col telecomando impegnata, quindi posso usare la mano destra, penso la pelle, l'odore di pedra, è bellissimo, quelli lunghi sono veri, non ci vanno nell'inquadratura, se non ci vanno, quelli lunghi, in pratica hanno questo pezzo in più, quindi io faccio, già vanno molto comodi, forse ci vorrebbe la M, però cosa faccio? Io chiudo prima questa, l'ultima chiusura, questa qua, perché quella, no, e poi chiudo questa con la cintura, che veramente se la stringi, il guando non viene via, cioè ma è molto difficile che venga via, cioè ho tirato, sì, 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 ma non viene via, qui in caso di scivolata è una doppia coperta, è una doppia sicurezza, cioè io ho questa chiusura e questa chiusura, che dire, ho tirato e non va bene, cioè nel senso, va messo per bene, fatto combaciare, bene, e qua insomma discretamente stretto, le dita, vedi, cioè non esce molto, esce un po' di materiale sul pollice, però non sono eccessivamente comodi, ma veramente è durissimo, cioè è una cosa terribile, non sono eccessivamente comodi così, ma tra quello lungo e quello corto, per 20 euro conviene questo lungo, infatti quello lungo lo mando in quello corto, e questo lungo, lo tengo, perché magari ragazzi ho preso, ho provato 4-5 tipi di guandi, quelli non lo so, cioè Revit, InBike, dei guandi similari che costavano la metà, però comodissimi, dopo 15 giorni ho dovuto fare il reso, cioè erano insopportabili da tenere, cioè insopportabili, e impiegavo 15-20 secondi per indossarli, cioè non è che era fattibile, io uso, ti metto sotto il video il link a questi guandi, sotto il video, quelli shorts e quelli long, adesso c'è il Black Friday, puoi trovarli sui siti, non lo so, invece di 150, su Amazon, li trovi a 10 euro in meno in questo momento, dicembre, primo dicembre 2024, 140, 130, guarda, clicca sul link e vedi, puoi trovarli su qualche sito, li puoi trovare a, capisci, a 20 euro in meno, ma io preferisco Amazon perché sono, cioè li provo pure 10 giorni, quale negozio, te li fa provare 10 giorni, capisci, quale negozio ti fa, ma se li provi una sola volta in moto, qualsiasi azienda non te li, non ti fa il reso e complesso sui, io sto facendo un reso di una visiera che non è omologata per il mio casco in carbonio, cioè non è omologata, ma da una visiera non omologata, dove la uso? Non si usa in strada, si usa, no, per competizione, c'è scritto, c'è competizione, per ornamento, ma che diavoleria, vabbè, non entro in merito, ed è scomodissimo, cioè a parte che alcune aziende, i resi lo fanno, ma a spese due, cioè Amazon, Amazon tutta la vita, perché Amazon lo fa, ho tutte maglie termiche qua, lo fa gratuitamente, hai speso 140, 140 ti vengono restituite, quindi compro sempre su Amazon, a volte è successo che quando hanno fatto una prova, una motociclismo.it, un canale, ho visto un video, ho fatto una prova, in cui dei guanti presi su certificati, omologati, presi su Amazon, non hanno superato i test, però questo è dainese, cioè preso su Amazon, questo non è che Amazon ha comprato su un'azienda cinese, Amazon ospita dei venditori dainese, cioè dainese e dainese in persona, cioè lo store dainese, e c'è la certificazione, non è che sono dainese falsi, anche perché costano pure più, costano più del negozio, cioè non del negozio fisico, negozio fisico li pagherai di più, costano più di certi siti, però ripeto, poi dopo se non vuoi, cioè il guando comprato online, se non vuoi fare il reso è una fregatura, oppure il reso è macchinoso e ci rimetti 20-30 euro perché devi spedire a spese due, cioè ti consiglio nella maniera assoluta Amazon, c'è il link sotto il video, noi ci vediamo alla prossima, iscriviti al canale, un saluto da Giambiero, ciao!